Ciao Superdonna, è arrivato un nuovo magico Natale, che dire, ci tengo a ringraziarti con tutto quanto il cuore per far parte di questa magica famiglia che ha un unico obiettivo, far vivere a quante più donne il proprio massimo potenziale. È stato un anno di avventure, di sfide, di crescita, di novità, però col nuovo anno che verrà ci tengo a farti tre auguri. Ci tengo che questi miei auguri possano toccare la tua vita e in qualche modo spingerti ad avere sempre il meglio e il massimo, che è quello che ti meriti. Il primo augurio che ti faccio è quello di essere folle. Cosa significa essere folle? Buttarti senza limiti in nuove avventure. Non pensare mai che un'avventura non possa essere alla portata delle tue possibilità. Non rinunciare mai a nuove occasioni solo perché pensi di avere dei limiti. Gli unici limiti che hai sono quelli che pensi di avere. Quindi sii folle. Questo augurio mi ha toccato nel profondo perché lasciami dire che tutti i momenti di maggiore successo, gratitudine, liberazione, li ho ottenuti semplicemente con idee folle che mi hanno portato a vivere esperienze che non avrei mai pensato di essere in grado. di poter vivere e conquistare. Quindi non porti i limiti, sii folle, affronta, vivi la vita. Questo è il mio primo importante augurio. Il secondo augurio che io ti faccio è quello di trovare la forza. Trovare la forza di dare più valore agli obiettivi che hai rispetto alle cadute che trovi nel percorso. Troppo spesso valutiamo le cadute, gli ostacoli, le interruzioni come un qualcosa di negativo. Ma in realtà sono il più grande significato che stiamo lavorando per ottenere qualcosa di grande. Quindi quando c'è una caduta, quando c'è un blocco, non fermarti ma sii felice perché questo è venuto proprio mentre lotti per raggiungere la meta. Rialzati, ogni caduta ha qualcosa da insegnarti, ogni caduta è pronta a dimostrarti che ti stai avvicinando sempre di più alla meta. E il terzo augurio che io ti faccio va un po' controcorrente. Siamo soliti augurare alle persone di poter trovare la bellezza nella vita. Io non ti auguro di trovare la bellezza della vita ma di poterla vedere. La bellezza c'è già, come la felicità in ogni giornata. Quindi ti auguro di avere quello sguardo lungimirante per apprezzare le piccole cose veramente importanti. Questi sono i miei tre più grandi auguri che ci tengo a farti. Tre auguri, tre prospettive di vita che mi hanno cambiata per sempre e portano ogni giorno luce all'interno della mia vita. E spero che possa questa luce anche raggiungere la tua. Ti abbraccio e ti auguro un magico Natale da parte mia e da tutto il team di Bright & Fit che lotta ogni giorno per il tuo massimo potenziale. Ciao Superdonna!